Estiva, ha parlato a tutto campo, ha detto che l'economia comunque è in ripresa e ha anche attaccato alla RAI. Insomma, Valeria, raccontaci tutto. Sì, il Presidente del Consiglio sta ancora parlando qui in conferenza stampa per fare un po' un bilancio dei primi 14 mesi dell'attività di governo. Ha parlato della politica interna, dei buoni risultati, dice lui, ottenuti dal governo, in particolare nel modo in cui il governo ha approcciato la crisi economica e sostanzialmente si dice soddisfatto per quelli che sono i primi segnali di ripresa. Ma possiamo già sentire un primo intervento di Berlusconi proprio sull'economia. L'Ocse dice che l'Italia è la prima in Europa per segni di ripresa. È maggiore in Italia il superindice, dove è salito di 4,8 punti su base annuale a 103,3 punti, rispetto anche alla Francia, la seconda in ripresa, dove è salito di 2,7 punti a 101,6 punti. Una buona notizia che va nella direzione della fiducia, che io insisto debba sempre esserci per uscire presto da questa crisi. Il Presidente del Consiglio si è soffermato soprattutto su quelli che definisce gli ottimi risultati del governo in politica estera, a partire dal G8 ha tirato un po' le somme del vertice e è tornato sul vertice di ieri tra Turchia e Russia, proprio che si è tenuto in Turchia per il gasdotto. Ieri Berlusconi aveva sostanzialmente detto che quell'intesa tra Turchia e Russia sostanzialmente era un grosso successo anche del governo italiano. Fonti del governo turco però hanno espresso sorpresa per questa presa di posizione di Berlusconi. Oggi su una nostra domanda Berlusconi ha un po' minimizzato, sostanzialmente però ha detto si tratta in realtà di un'intesa che giova anche all'economia italiana, anche in prospettiva, e quindi in parte ancora ha rivendicato il successo del governo italiano in questo senso, però rispondendo a questa domanda è tornato ad attaccare la RAI, in particolare il Tg3 e la stampa in Italia. Sentiamolo. Io ho fatto una grande attività sul mandato esplicito del Presidente Putin nei confronti di Erdogan e una grande attività sul mandato esplicito di Erdogan nei confronti del Presidente Putin. Uno, due, eravamo molto interessati, siamo molto interessati perché la nostra più importante azienda, l'Eni è protagonista sia nel South Stream che nell'Oleodotto. Abbiamo ottenuto che si possa realizzare il South Stream in acque territoriali turche, abbiamo ottenuto che la Federazione Lussa entri nei partner dell'Oleodotto. Se questo non è un grande successo lascio dimostrare a lei. Dal tono di lei appartiene a un'attestata, il Tg3, che ieri è uscita con quattro titoli, tutti negativi e di contrasto all'attività del governo. credo che sia una cosa che non dobbiamo più sopportare, non possiamo più sopportare. E direi che per il momento vi restituisco la linea. Grazie a Valeria. Dunque l'attacco proprio al Tg3, non tanto alla RAI in generale. Andiamo alla Inse di Milano, la fabbrica... Grazie a Valeria.